Siamo molto felici di questo. Incontriamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni, ma come d'altronde tutte le squadre che stiamo incontrando, un campionato molto difficile, tutte sono squadre forti alla fine. Poi le classifiche si fanno e vengono da sé col passare del tempo. L'importante è che noi riusciamo a stare sempre bene in campo, sempre con un'intensità adeguata, buona e riuscire a proporre quello che durante la settimana cerchiamo di fare. Mister, praticamente cosa può cambiare il giocare su un campo più grande e un po' più ampio rispetto al sintetico? Alla fine i concetti sono quelli, li portiamo sia in un campo piccolo che in un campo un po' più grande, quindi cambia sostanzialmente il terreno di gioco. Siamo felici finalmente di poter tornare di là.